Ben ritrovati su TSD, prosegue l'appuntamento con l'incontro, la due giorni di studio dedicati a frate Elia da Cortona, il religioso francescano la cui esistenza è stata a cavallo tra mito e realtà. La nostra emittente vi ripropone gli interventi dei relatori che hanno animato l'incontro qui al centro convegni Sant'Agostino di Cortona. Non mi resta dunque che augurarvi un buon proseguimento. Vi spiego brevemente come sono arrivata a questo titolo perché non è il titolo che mi era stato proposto. Mi era stato proposto di parlare di Elia nella storiografia francescana. Guardando però l'insieme del programma mi sono reso conto che quasi tutti avrebbero discusso le fonti su Elia, le fonti francescane su Elia. Per cui rischiava di essere una sorta di doppione per molti dei miei colleghi e tra l'altro non avrei probabilmente aggiunto nulla di particolarmente significativo per il convegno. Allora ho proposto questa formula che nella mia intenzione molto italiana aveva lo scopo di consentire a tutti gli ascoltatori del convegno di vedere come ognuno dei relatori di ieri si collocasse all'interno dello sviluppo di una tradizione molto controversa su questa figura di Elia. Perché scelto Sabatier? È una dichiarazione di lodi al merito, ma anche perché Elia è intrecciato indissolubilmente alla questione francescana. Ne è insieme un frutto ed insieme un indicatore. Tant'è vero che anche nel libro di Dallin sulla leggenda umbra, alla fine uno degli elementi datanti di questo testo finisce per essere Elia. O la collocazione che noi diamo ad Elia in qualche momento del 200. Perché si deve partire necessariamente dalla vita di Francesco, che pure ad Elia non dedica un enorme spazio. Perché quando Sabatier si mette a scrivere questa vita, sono successe alcune cose intorno. Intanto sono usciti pochi anni prima l'edizione dell'analetta franciscana di alcune cronache che avrete sentito nominare ad abbundanza i amieri, cioè quella di Giordano e quella di Tommaso d'Eccleston, che sono due voci nettamente anti-Elia. Però di un certo modo di vedere Elia. E lì ha condannato come generale autoritario, antidemocratico. Però nello stesso tempo Sabatier si sta interessando alle fonti cosiddette non ufficiali, alle biografie non ufficiali. La vita di Francesco è il 93, però del 98 sarà l'edizione dello Speculum, che è già ampiamente citato nella vita, e del 1901 è l'edizione degli Actus, che anche sono ampiamente citati nella vita. Allora Sabatier ha raccolto per la prima volta, e tra l'altro secondo lui lo Speculum perfectionis, è la prima fonte francescana, perché l'ha data il 1227, per cui è addirittura anteriore a Tommaso d'Acelano, e naturalmente parlando di Francesco non può che vedere Elia alla luce delle sue scoperte. E siccome privilegia nettamente l'interpretazione di queste fonti, che poi noi sappiamo essere in realtà dell'inizio del XIV secolo, mentre per lui sono le autentiche prime testimonianze dei frati, il giudizio su Elia è un giudizio negativo, perché Elia è colui che è venuto meno allo spirito originario, è il traditore di Francesco. E però anche Sabatier, proprio perché ama tantissimo il suo Francesco, si deve porre il problema, ma com'è possibile che quest'uomo abbia concesso per tanti anni la sua fiducia ad Elia? Perché questo è indubbio. L'ha mandato nel 1217 in una provincia che era particolarmente cara al cuore di Francesco, perché è la provincia di Siria, la Terra Santa, cioè il centro, in un certo senso, della spiritualità cristologica di Francesco. L'ha fatto poi suo vicario, ministro generale, sapete che le fonti oscillano nel dargli questo termine. Io penso che effettivamente abbia avuto l'autorità di un ministro e gli ha affidato una quantità di mansioni importantissime. E allora, come si può arrivare a conciliare questi giudizi molto negativi da parte di coloro che sono, secondo Sabatier, i veri interpreti di Francesco, con questa figura tutta negativa, quasi demoniaca, che danno gli spirituali. Allora, Sabatier arriva a questa felice notazione psicologica. Gli uomini che hanno un gran cuore non possono avere un'intelligenza chiarissima. Gli deve essere costato scriverlo. Spesso si sentono affascinati da quelli che sono più diversi da loro, e nell'animo dei quali non vedono quelle debolezze femminili, quei sogni bizzarri, quella pietà quasi morbosa per gli esseri e per le cose, quella mistica del dolore, che fa umano al tempo stesso la loro felicità e il loro tormento. Per cui, è una sorta di coppia, una coppia che psicologicamente noi conosciamo, dei contrari che si attivano, ed Elia finisce per essere scelto proprio perché è il contrario. Questa scelta a contrari non funziona invece per il cardinale Ugolino, poi Gregorio IX, per cui invece Elia è effettivamente il frate minore secondo il suo cuore. Qui nasce con Sabatier, da una parte l'immagine negativa di Elia, dall'altra anche l'immagine negativa di Ugolino, Gregorio IX, in fondo associati nell'opera di distruzione di quanto Francesco aveva voluto. In ogni modo, Sabatier non si è certo fermato qui, cioè non si è fermato alla vita di San Francesco, come vi ho detto è stato un grande editore di testi francescani e soprattutto ha lanciato questa collana di riedizioni di testi in cui è uscito di nuovo Giordano, edito da Bermert, e Tommaso D'Eccleston, edito da Litte, che tra l'altro sono poi le edizioni che più spesso citiamo. sfavorendo quelle degli Analecta. Ma soprattutto Sabatier è restato evidentemente tormentato da questo problema di Elia. L'ha risolto in chiave psicologica, ma non gli basta. Per cui è lui che chiede a Eduard Lemp di impegnarsi, e lo dice Lemp nella sua prefazione alla vide fra Elia, a studiare Elia, dando una prima biografia moderna del personaggio. E bisogna dire che Lemp, che pure condivide sostanzialmente l'impostazione di Sabatier, però si è dato molto da fare. Ha fatto un lavoro a cui ancora oggi, in fondo ricordiamo, perché è un repertorio completo, diciamo, delle fonti su Elia, anche se poi parecchie di queste, per esempio quelle che provengono dal Sacro Convento di Assisi, sono state riedite da Bartoli Langelli. Ma Lemp scrupolosamente mette insieme e le carte che riguardano la fase iniziale del lancio della Basilica di Assisi, i primi documenti di Gregorio IX, la decisione di farne la Caput et Mater dell'Ordine, il trasferimento di questo terreno che sorgeva nel Colle dell'Inferno su cui dovrà essere costruita la Chiesa, e poi anche la documentazione cortonese, quella che ci fa vedere come il Comune si è intervenuto più volte per sostenere la costruzione di San Francesco, nonché anche altre carte interessanti come il Trattato di Pace fra Assisi e Faspoleto e Cerreto. Per cui Lemp è veramente uno studioso, un erudito ottocentesco, può avere delle idee fortemente radicate, delle grandissime convinzioni, però è soprattutto alla ricerca della verità, per cui ha messo insieme questo grande dossier. con cui costruisce una vita di Elia, che naturalmente non può avere caratteri del tutto positivi, e però in alcuni casi si allontana dalle interpretazioni sabbateriane. Uno dei casi, per esempio, è quello di questa famosa benedizione di cui si è ancora parlato pochi minuti fa. Sabatier, nell'edizione dello Speculum Perfezionis, aveva scritto chiaramente Francesco non ha benedetto Elia, ha benedetto Bernardo, Elia ha mentito deliberatamente a Tommaso Nacelano, il quale ha accettato questa menzogna e poi non ha avuto il coraggio di smentirsi chiaramente. L'EMP è molto più prudente, si è studiato bene la questione, ma in fondo questa vita è stata scritta pochi anni dopo la morte di Francesco, è diventata la vita ufficiale, erano vivi tutti quelli che avevano assistito a questa benedizione, non è possibile che sia totalmente un falso. E non è anche del tutto vero che Tommaso Nacelano non abbia in parte ritrattato, perché un passo non chiarissimo della vita seconda riprende, ribadisce che la benedizione è partita dalla testa del suo vicario, che non c'è dubbio essere Elia in quella fase, ma che questa benedizione era una benedizione rivolta a tutti i confratelli, e che chiunque abbia cercato di usarla a proprio favore ha esagerato, è andato contro quella che era la verità. Il che vuol dire effettivamente la benedizione ad Elia c'è stata, ma era una benedizione, diciamo, ex ufficio. Tommaso è onesto, io non posso dire che non è andata così, e però non è giusto che Elia poi se la sia attribuita come, a titolo personale, come dire questo è stato un segno di scelta esplicita da parte di Francesco. Per cui accetta sostanzialmente il quadro negativo che ne hanno dato gli spirituali, ma lo arricchisce e poi arriva a scrivere Elia deve essere stato meglio di quanto ne dicano i suoi avversari perché ha potuto essere amico per tanti anni di Francesco. Il problema anche per lui c'è. È stato per più di dieci anni accanto a Francesco. Negli anni immediatamente successivi un cappuccino René de Nantes incomincia a pubblicare sull'Etude Francis Kenner degli studi sugli spirituali. René de Nantes rappresenta in un certo senso l'interpretazione più estremistica molto più di Sabatier Olempe della visione totalmente negativa dell'evoluzione dell'ordine. Per lui gli spirituali sono più o meno contemporanei alla nascita dell'ordine. Da quando l'ordine si è istituzionalizzato ci sono stati alcuni che hanno rifiutato questa istituzionalizzazione chiamiamoli Zelanti chiamiamoli spirituali questi hanno incominciato subito a fare opposizione. E necessariamente si sono trovati a scontrarsi contro Elia. Per cui Elia ha una connotazione totalmente negativa non utilizza neanche le cautele metodologiche che gli erano suggeriti da Lemp che pure conosce ma prende assume l'idea che sia da sempre il capo della fazione rilassata. Quello che ha cercato di deviare il cammino dell'ordine portandolo su una strada che era quella voluta che in questo caso dalla chiesa da Gregorio IX traditore in fondo degli ideali di Francesco e per lui naturalmente la benedizione è andata a Bernardo non si discute assolutamente della cosa e però qual è il problema di René Nant è che lui è convintissimo che ci sia stata una forte reazione una reazione zelante spirituale già negli anni ultimi anni di vita di Francesco e negli anni immediatamente successivi cioè che Elia sia stato capo di una fazione ma già contestato in vita e allora come si spiega e questo è il vero problema di René Nante che quando poi legge le ricostruzioni della caduta di Elia chi sono coloro che si sono rivolti al Papa per denunciare Elia non sono gli zelanti che pure avrebbero potuto invocare le persecuzioni di Elia il caso famoso che viene ripreso anche d'Angelo Clareno per esempio della morte violenta di Cesario di Spira che pure era stato uno dei primi compagni di Francesco quello che l'aveva aiutato a inserire i testi biblici nella regola allora come come è possibile che siano stati gli altri cioè questo questo dissidio interno alla comunità in un certo senso Elia che è un rilassato che viene abbattuto da quelli che poi hanno portato l'ordine definitivamente su quella strada che secondo me René Denante è la strada del tradimento dell'ideale e del fondatore per cui la storia degli spirituali è una storia di una minoranza che non è mai riuscita a farsi sentire per cui alla fine Elia è caduto non per le sue vere colpe diciamo così ma per dei dissensi interni fra personaggi che sostanzialmente condividevano l'interpretazione dell'ordine francescano per cui per René Denante certo non è Elia è solo carnefice dei confronti dell'ordine mentre per l'empe Elia è carnefice vittima perché è severo che l'etuffangerme l'oeuvre alla chiesa un metro aveva consacrata sa vita se la curie chi l'aveva conduì e dirige e che a un certo punto l'ha abbandonato Ugolino sarebbe stato dagli anni 20 l'anima nera diciamo di questo processo di claricalizzazione e di trasformazione dell'ordine poi di fronte a questa rivolta di quelli che avevano pienamente accettato questa strada sacrifica Elia che finisce per essere vittima della sua stessa politica nel 1928 perché a questo punto si inserisce la parentesi della guerra René de Nantes scrive nel 1909 gli opuscoli di critiche storiche vengono pubblicati più o meno tutti prima della prima guerra mondiale o quasi tutti Sabatier è ritornato sul problema di Elia nel 1904 nell'undicesimo dei suoi opus school studiando il problema dello speculum vitae e in cui mette a fuoco soprattutto uno degli aspetti che appare più incomprensibile ai suoi occhi cioè il racconto di Tommaso da Eccleston del tentativo del 1230 di Elia di farsi eleggere già durante il capitolo che è stato convocato al momento della traslazione di Francesco e poi un racconto più o meno analogo il 1232 per cui soprattutto si tratta per lui di mettere insieme delle fonti che non gli pare che concordino nel 1928 Gracien de Paris pubblica l'histoire della fondazione dell'evoluzione dell'Ordre de Framinera che è restata per circa un secolo il punto di riferimento della storiografia francescana possiamo dire che è stato solo nel nome di San Francesco di Merlo che ha fatto sì che nelle ultime bibliografie dei miei allievi si citi Merlo e non si citi più Gracien anche se diciamo un certo tipo di informazioni contenute nelle note di Gracien non sono ancora presenti non sono state tutte riaccolte nel lavoro di Merlo e Gracien de Paris ha fatto un lavoro molto onesto conosce perfettamente sa usare con discernimento il lavoro che è stato compiuto nei decenni precedenti anche se non ne condivide sempre le valutazioni valorizza l'attenta ricerca documentaria condotta dall'EMP della sua biografia di Elia conosce anche René de Nantes ma tutta l'impostazione delle strade spirituali è talmente antitetica alla sua da dove segnalare in nota che non ne accetta l'idea di fondo il ritratto di Elia in Gracien è quello di un uomo dalle grandi capacità e dai grandissimi difetti la ricostruzione del suo operato come ministro generale perché Gracien lo considera ministro generale a tutti gli effetti sostiene che la qualifica di vicario è stata utilizzata sì dalle fonti francescane ma non da Francesco perché effettivamente Francesco parla di ministri lui parla si rivolge al ministro generale viva ancora Francesco e poi come responsabile della costruzione della basilica gli valgono gli eroghi più vivi l'intelligenza rara di cui è dotato la grandezza dei suoi progetti l'energia della sua volontà fanno di lui un organizzatore di eccezionale potenza tutte queste qualità sono state messe a servizio di un ordine che Elia voleva numeroso e potente ma quest'uomo eccezionale è anche capace di abusare senza scupo dei suoi diritti davvero autocrate nomina distituisce esposte i provinciali seguendo il suo piacere perché è troppo consapevole della propria dignità e del proprio prestigio ma forse anche perché come generale subì l'attrazione dell'ideale benedettino questa è un'idea che chiaramente a Gracien de Paris è stata suggerita dalla lettura di Sanimbene in cui l'idea il ritratto del prelato Elia è un ritratto che è tutto ispirato all'idea che il suo modello fosse i grandi abati benedettini per cui Sanimbene nutre grande avversione pur scopoloso nell'uso delle fonti anche se dobbiamo sottolineare il non utilizzo delle fonti biografiche non ufficiali Gracien che conosce gli autori cui attinge ma non è in grado di interpretare le motivazioni delle loro scelte finisce per disegnare un'immagine di Elia grandiosa insieme incomprensibile in qualche modo il ritratto di un superuomo perché ha queste enormi qualità è stato prescelto indubbiamente per queste qualità da Francesco e però è stato altrettanto smisurato dei suoi difetti come si risponde a tutte queste interpretazioni negative di Elia da parte della comunità dell'ordine nella sua parte più ufficiale diciamo che le risposte non sono particolarmente ricche da un punto di vista interpretativo sia Lattal che Fortini che scrivono fra gli anni 30 e l'inizio degli anni 50 non hanno la capacità di contrapporre veramente un'interpretazione alternativa delle fonti anche delle fonti diciamo ufficiali come quelle di Tommaso da Celano vita seconda o di Giordano e di Eccleston che non possono certo essere ascritti a un partito spirituale per cui il loro grande argomento è sostanzialmente quello di essere stato Elia il compagno di San Francesco cui tutto viene letto in questa luce e tutto viene in ogni modo ricondotto ad un'impronta francescana che dovrebbe salvaguardare l'immagine di Elia dagli attacchi eccessivi che gli sono stati sferrati però leggendo un po' quello che avete scritto a questo tipo di storiografia in genere poco citata da gran parte degli autori qui presenti appunto perché non ha lasciato un segno importante nel dibattito segue poi un periodo di relativo disinteresse da parte degli storici laici per la storia francescana a partire dalla seconda metà degli anni sessanta del ventesimo secolo invece si assiste a un nuovo revival è una ripresa in grande stile della questione francescana non per nulla è nel 1973 che rinasce la società internazionale di studi francescani che dedica il suo primo convegno proprio a Sabatier e alla questione francescana il grande animatore di questa ripresa è stato Manselli Manselli che ha dedicato gli ultimi 15-20 anni della sua vita a studiare il francescanesimo e soprattutto il francescanesimo spirituale ha incominciato precocemente con la lettura Super Apocalipsim di Pietro e Giovanni Olivi una grande impresa che non è mai riuscito a portare a termine dato che voleva preparare l'edizione Pietro e Giovanni Olivi l'ha portato ad occuparsi di tutta la questione degli scritti spirituali ora l'interpretazione di Manselli della questione francescana è molto influenzata da Sabatier quasi in tutto persino la sua idea che si potesse ricostruire in un qualche modo l'archetipo della tradizione autentica risalendo al nosquicum eum fumus si trova in Sabatier in Sabatier è una frase gettata nel mare magnum delle tante intuizioni sabateriane invece in Manselli è diventato un metodo di studio analitico però per dirvi quanto è forte questa impronta di Sabatier e si vede subito dalla pubblicazione nel 1967 sul bullettino dell'istituto storico italiano del saggio l'ultima decisione di Francesco Morente che penso che se avete parlato della benedizione ieri sarà stata anche citata perché è uno dei pezzi forti della questione sulla benedizione la decisione dopo un'analisi molto attenta filologica di tutti i passi partendo appunto dall'esempio biblico della benedizione di Giacobbe che da Manselli è la più negativa possibile per Elia gli altri si erano fino a quel momento limitati a dire non è stato Elia ad essere benedetto è stato Bernardo questa era stata l'interpretazione per esempio di Sabatier Manselli assume come chiave di lettura quella di Giacatus in cui non solo è Bernardo che viene benedetto ma Elia viene esplicitamente allontanato perché gli si dice questo è Elia quello su cui hai messo la mano dice no non lo voglio io voglio benedire Bernardo qui non è una casuale scelta ma è una deliberata negazione delle importanze del senso che ha avuto Elia lo studioso prende risolutamente partito contro la versione fornita alla vita prima e arriva a dire che si tratta anche questo riprendendo una frase di Sabatier dello Speculum Perfezionis che è un falso questa interpretazione viene ribadita in modo ancora più netto perché il linguaggio è più piano diretto in realtà capire bene il saggio di Manselli del 67 non è semplice perché richiede di mettersi i segni sui panni il gioco del destra sinistra le mani che si incrociano è un saggio difficile ma i risultati vengono proposti ai non specialisti nella biografia che Manselli ha consacrato Francesco e che è arrivata nel corso della sua vita a tre edizioni in quella dell'82 è stata riveduta e corretta dall'autore poi uscirà un edizio maio di questo Don Francesco che però con note bibliografia che è dovuta agli allievi di Manselli ma non ai di Manselli così si esprime a Manselli a proposito delle contrastanti versioni della benedizione purtroppo i valori di questo gesto e l'impegno che ne derivano hanno gravemente viziato le fonti interessate a mutare il significato essenziale ci riferiamo all'ultima benedizione del santo al suo primo fratello Bernardo di Quinta Valle e all'affidamento di lui fatto ai ministri perché la massimo come fosse lui stesso Tommaso Racelano nella vita prima va detto senza mezzi termini muta la verità nella vita seconda si tace di Elia e Tommaso rettifica ma non si parla di altri come fa del resto Buonaventura le biografie ufficiali dunque tacciano deliberatamente Tommaso per ignoranza Buonaventura che del resto è strettamente vicino se non dipendente da Tommaso per cui una posizione inequivocabile per chiunque legga quella vita Bernardo invece è indicato come destinatario della benedizione da tutte le fonti non ufficiali quelle cui vanno decisamente le preferenze di Marselli la volontà di Francesco sarebbe stata quella di affidare ai confratelli non solo il testamento ma anche con Bernardo un è testuale continuatore di se stesso la sua eredità si sarebbe così identificata in una regola approvata solennemente dal Papa un convento modello la Porziuncole e un frate modello Bernardo quello che colpisce nella biografia di Francesco è che a parte questo passo in cui il generale viene privato persino di quella benedizione ex officio che ancora li riconosceva sia pur indirettamente la vita secunda e che in fondo era propenso a concedergli anche l'EMP è connotata da una praticamente totale assenza Manselli naturalmente non ignora la missione in Siria del 1217 dovrebbe indotto a farsi minore un uomo colto preparato e spirituale come Cesario che invece è uno dei più apprezzati eroi della saga spirituale naturalmente posso tracere il fatto che fu proprio Francesco a sceglierlo come superiore per sé per i confratelli nel marzo del 1221 in entrambi i casi la decisione di Francesco viene attribuita alla capacità e l'energia dimostrate dal frate che troveranno conferma anche nella buona organizzazione della missione in Germania che viene descritta più o meno trascrivendo Giordano Ragiano la cura con cui Elia si occupò di Francesco Malato che viene presentata molto ampiamente nella vita prima di Tommaso Racelano ma che in realtà è presente anche negli scritti dei spirituali viene minimizzata sia il vicario generale fratelli sia il cardinale Ugolino si preoccuparono moltissimo di queste malattie ognuno secondo il proprio temperamento il primo suggerì di ricorrere a medici e cure il secondo badò che Francesco seguisse le prescrizioni questo intervento viene visto come un segno della scarsa spiritualità dei due personaggi che pensavano si dovesse ricorrere all'aiuto umano invece di affidarsi totalmente alla volontà divina come era disposto a fare Francesco certo Marselli che chiude il suo lavoro con la scena della morte di Francesco evita la necessità di dover esprimere un giudizio su tutto quella che è stata la vita di Eliane successivamente i pochi riferimenti del tutto neutro all'attività di Elia si scontano però con la sicurezza con cui egli accusa Tommaso da Celano di aver deliberatamente falsificato l'ultima benedizione del santo morente e qui sono costretta anche se non dovrei in un qualche modo a citare me stessa perché fra il 1967 e il 1980 quando è stata scritta questa biografia è intervenuto il mio lavoro su Elia che mi è stato affidato nel 1969 da Fugoni con queste parole lei deve studiare Elia prendendo quattro fonti una colui che ha ha predisposto la cura che sarebbe Buonaventura che ha cercato di dare con la sua leggenda Omaio una vita medicamentosa per placare i distensi nell'ordine uno che è prima della cura che è Tommaso da Celano uno che dopo la cura che è Salimbene e uno che la cura l'ha rifiutata ed è Angelo Claveno questa scelta delle fonti così come mi è stata prospettata allora da Fugoni che poi naturalmente io ho seguito solo in parte perché l'ho molto arricchita era dettata dal fatto che in quel momento all'istituto storico da una parte c'erano due francescanisti importanti attivi che c'era Manselli da una parte ma c'era Fugoni che era stato il grande studioso di Claveno che era impegnatissimo e che lui che ha proposto anche di arrivare alla pubblicazione delle opere di Claveno poi la cosa si è protratta per decenni però l'idea era partita da lui e però pur essendo un grande lettore di Claveno Fugoni non era intimamente convinto che la lettura proposta da Manselli fosse l'unica possibile di questa storia della benedizione non me l'ha mai detto però si capiva che era così io ho scritto la mia tesi di cui Manselli è stato il correlatore che mi ha detto in serie di discussione lei mi ha fatto ripensare cioè non avevo mai visto dire così però da allora in poi perché la mia tesi è stata consegnata alla redazione del bullettino nel 1971 anche se è uscita nel 78 e per Manselli è diventata secondo me una pietra d'inciampo perché non aveva nessuna intenzione di abbandonare la sua visione sabbateriana diciamo così dell'evoluzione dell'ordine non aveva come dimostra la biografia di Francesco nessuna idea di rivedere il giudizio negativo sulla vita prima di Tommaso Lacerano che ripete continuamente nel corso della biografia di Francesco e nello stesso tempo sapeva che c'era anche questa interpretazione di Elia che allora circolava pochissimo che però lui conosceva perfettamente però la mia è stata una presenza silenziosissima nel dibattito su Elia fino al 1991 questa è la realtà l'articolo del bullettino non ha lasciato nessuna traccia nella storiografia per tutti gli anni 80 quale conclusione dell'intervento ho scelto un testo praticamente contemporaneo alla versione della biografia di Francesco appena citata che però si discossa totalmente da tutti quelli che ho menzionato finora per un taglio che è del tutto istituzionale e che non ha nulla di biografico che non tenta neanche un abbozzo di ritratto di Elia come c'è in Gracien de Paris si tratta del celebrismo studio di De Bonnet dell'intuizione all'instituzione le franciscane come noto il problema dell'autore è quello di analizzare come nel giro di meno di 30 anni l'intuizione carismatica di Francesco si sia tradotta in una grande istituzione da successo europeo il De Bonnet non può non notare che l'errore d'elite dans le développement de l'ordre sera trop grande indubbiamente è così di qui la necessità di porsi la domanda su chi sia stato veramente Elia De Bonnet è scettico sulla possibilità di decifrarne l'enigma lo definisce per due volte una personalità ambigui perché quasi tutte le informazioni su di lui provengono dai suoi avversari anzi dai suoi nemici qui non vale la pena di credere troppo De Bonnet non può non attribuire un qualche peso però al fatto che Francesco ha mostrato sempre stima e fiducia in Elia che di lui si è preso cura con grande sollicitudine e che è chiara chi non sarebbe tra suspecte di vouloire amandrire l'ideale di François lui ha toujours gardé sa venerazione ed è questo è un tema che è stato sviluppato moltissimo negli anni dal 90 in poi l'autore non riesce neanche a prendere sul serio l'episodio narrato dai compagni ma ripreso anche da Buonaventura dello smarrimento della prima stesura della regola del 23 da parte di Elia quale manifestazione della sua resistenza di fronte a un testo troppo duro un episodio che poi è molto ampliato negli scritti spirituali per cui si trasforma anche in una serie di dialoghi piuttosto duri tra i rilassati di cui Elia si fa portavoce e Francesco e questi ministri rilassati si presentano dicendo sappiamo che tu stai scrivendo una regola noi temiamo che possa essere troppo impegnativa per noi per cui osservala tu per noi non va bene quel che è certo è che Buonaventura non penso che come suggerisce De Bonnet abbia voluto ingraziarsi il gruppo degli zelanti cioè lui dice inserire questa incuria di Elia sarebbe stato engage dato agli zelanti che avevano questo atteggiamento molto netto contro Elia per dire vedete sono un po' dalla vostra parte io penso che invece l'episodio sia stato utilizzato da Buonaventura essenzialmente per ribadire il carattere che quella regola ha un'ispirazione divina perché il racconto è questo la regola viene scritta una prima volta Elia per incuria la perde e lì Francesco ritorna sopra il monte la riscrive come se la ascoltasse dalla voce di Cristo per cui quel testo viene santificato diventa a sua volta reliquia in un qualche modo è un qualcosa di intangibile e da questo punto di vista Buonaventura è stato coerentissimo nella sua difesa d'oltranza della regola e della forza che ha quella regola per giustificare l'eccezionalità francescana per cui secondo me l'inserimento serve piuttosto per far comparire Cristo nel racconto più che dare un contentino molto criptico agli spirituali ma l'elemento centrale di questo non ritratto di Elia offerto da De Bonnet riguarda l'accusa rivolta ad Elia da molti dei suoi illustri avversari quelli di aver favorito troppo i laici perché è la grande accusa di Salimbene e però è quello che traspare anche in Giordano o in Tommaso di Eccleston De Bonnet quasi suo malgrado è costretto ad ammettere che in tal modo Elia cercava di mantenersi fedele ad un elemento essenziale del messaggio di Francesco in favorisando le laiche dall'altro o più probabilmente in mantenere un certo un balance egale entre Clec e laiche l'azione di Elia così paradoxale che se la puisse paraître viene loin di detruire l'esprit di François vise al contrario un sovragardere un elemento essenziale ma le Clec non le compriva o forse direi io non lo volevo capire grazie devo mettere subito le mani avanti dopo quanto Jacques ha detto nel corso della sua presidenza di queste conclusioni spero solo spero solo di aver scritto abbastanza male da poter essere considerato uno storico passabile sicuramente ho scritto malissimo spero di capirmi dunque a conclusione di questo incontro di studio è credo doveroso da parte mia innanzitutto esprimere un triplice ringraziamento innanzitutto a chi ha promosso chi ha organizzato e variamente sostenuto questa iniziativa l'ho già fatto ma ha ripetito a Juvent perché questi sostegni sono veramente importanti per noi per tutti noi che ci occupiamo di non di economia ma di storia dunque ringrazio la sua eccellenza Monsignor Fontana arcivescovo della diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro che come ha ricordato il collega Enrico Menestò presidente del centro italiano di studi sull'alto medioevo di Spoleto nel saluto inaugurale ha avuto un ruolo fondamentale anche nel suggerire il tema stesso del convegno e nell'offrire ospitalità ai convegnisti ringrazio il sindaco l'amministrazione comunale di Cortona che ha messo a disposizione questa eccellente struttura e con grande signorilità e liberalità ha contribuito con un confinanziamento ad organizzare queste giornate di studio ringrazio anche l'appena ricordato Enrico Menestò perché ospiterà in una collana del centro di Spoleto gli atti del convegno stesso e lasciatemi poi dire una parola di caldo ringraziamento al collega Stefano Brufani e alla dottoressa Francesca Silvestri credo che di essere interprete dei sentimenti di tutti i presenti in particolare dei borsisti senza la loro opera infaticabile e appassionata direi senza la loro dedizione non si terrebbero questi incontri né si svolgerebbero i corsi residenziali di Assisi ringrazio poi naturalmente i relatori per l'impegno esemplare la passione anche la passione intellettuale come no e umana profusa nei loro interventi tornare su Fratelia da Cortona ma meglio sarebbe stato dire di Cortona data la sua più che probabile nascita ad Assisi con una distinzione che per esempio è diventata canonica per Fernando Antonio da Lisbona e poi Antonio di Padova comunque tornare su Fratelia non era così facile così scontato soprattutto nella prospettiva di un arricchimento di dati o di interpretazioni e di un apporto nuovo di conoscenza eppure riandando a quanto abbiamo ascoltato in questi giorni sentiamo tutti di aver imparato e di aver imparato molto e prima di entrare in qualche considerazione sui risultati quelli che a me sono parsi alcuni risultati di questo convegno lasciatemi anche ricordare rivolgere un pensiero ai giovani borsisti del 27esimo seminario di formazione di storia religiosa e di studi francescani tenuto in assisi e concluso qui a Cortona io sono sicuro che hanno tratto giovamento dalla partecipazione al convegno per il quale erano stati certamente preparati se nel discorso di Elia dei problemi relativi ad Elia durante i seminari di questi ultimi di questi dieci giorni non ho dubbio che questa esperienza e quella appunto assieme a quella del seminario l'esperienza del convegno l'esperienza del seminario rientrerà positivamente nel loro curriculum di formazione alla ricerca e mi auguro che come per altri altri tanti giovani del passato oggi molti non sono più giovani e sono in cattedra mi auguro che si sia trattato di un'esperienza umana da mettere nel bagaglio dei ricordi migliori venendo poi al tema del convegno Elia da Cortona tra realtà e mito dico subito che non ripeterò quanto abbiamo ascoltato ne abbiamo veramente sentito abbiamo sentito tantissime tantissime cose mi congratulo di nuovo veramente anche per la franchezza con cui sono stati presentati i risultati delle ricerche a volte magari non convergenti con quelle di altri segnalerò soltanto alcuni nodi problematici emersi a mio giudizio e alcuni aspetti di novità e forse anche di apertura di possibili future ricerche ebbene subito ricordare credo che Elia è una figura storica di prima grandezza Claudia Sebastiani Nobili ha ricordato opportunamente il passo della cronaca che chiude la trattazione di Salimbene relativa ad Elia e la nostra intenzione scrive Salimbene trattare dei ministri generali dell'ordine di San Francesco al loro luogo ma frate Elia che fu uno di loro e dal quale fu ricevuto nell'ordine offriva materia storica troppo abbondante è comunque anche agli occhi di un detrattore di Elia comunque un personaggio che non si può relegare nel dimenticatoio la damnazio memorie che dopo Salimbene e altri hanno contribuito a creare sulla figura di Elia sono peraltro poi stati anche un fattore di innanzitutto della creazione del mito del mito negativo di Elia e anche dell'interesse della storiografia quella particolarmente attenta per riprendere l'espressione di Giulia Barone che si rifaceva al suo maestro Frugoni quella storiografia particolarmente attenta al dopo la cura appunto Salimbene e Angelo Clareno la riflessione di Giulia Barone questa mattina sulla storiografia relativa a Elia ci ha guidato alla lettura e alla considerazione critica delle opere dei maestri dei grandi maestri di tutti noi della ricerca storica sul francescanesimo dal Sabatier fino a Manselli ieri Maria Pia Albersoni aveva anche ricordato altri studiosi dopo Manselli che hanno proseguito sulla strada di quei maestri e il convegno di oggi che oggi chiudiamo in qualche modo è un ulteriore piccolo grande passo nella direzione del proseguo della ricerca speriamo che non sia poi così piccolo e innanzitutto mi pare che si sia posto il problema delle fonti delle fonti e a me pare giusto rilevare che come pure ci sarebbe ci sarebbe potuti aspettare non si è levata in questi giorni nelle relazioni la lamentela più o meno consueta relativa alla scarsezza delle fonti non abbiamo le fonti sono poche non ce ne sono abbastanza per creare per come dire per andare a fondo di una personalità comunque complessa ma al contrario in maniera molto positiva per esempio Felicia Crocca ha ricordato le possibilità offerte dal Bullarium del Bullarium Pontificio sottolineando che tutto sommato è ancora troppo poco utilizzato per ricostruire le vicende di Fatelia e che un'attenzione maggiore prestata a quel tipo di fonti potrebbe riservare delle novità come lui stesso in parte ha mostrato Filippo Sedda poi ci ha ricordato come possono essere valorizzate le fonti trecentesche lasciamo perdere naturalmente lui ha citato due trecentesche ha citato Angelo Clarena ma Iactus Beati Francisci la Cronaca dei 24 Generali il De Conformitate di Bartolomeo da Pisa ecco anche queste opere per esempio compilative meritano non che non siano già state utilizzate ma meritano ulteriori approfondimenti così come su un altro piano Michele Pellegrini è andato a scavare e poi a scovare negli archivi di Cortona è andato a scovare qualche documento documento inedito atto a disegnare un quadro innanzitutto preciso della geografia e della organizzazione ecclesiastica di Cortona al tempo di Elia e poi naturalmente come era giusto si è soffermato sull'inquisizio romana del 1253 questa naturalmente è molto nota edita relativa al pentimento e al reale l'inchiesta sul reale pentimento e la riconciliazione con la chiesa di frate Elia da poco defunto e è stata una fine lettura che ha riproposto un documento sicuramente di grande di grande di grande interesse d'altra parte in definitiva non si è trattato mi pare tanto di scoprire o riscoprire nuove fonti quanto ancora di più perlomeno quello di rileggerle e di riesaminarle per valorizzare il noto da angolazioni diverse e far emergere con finezza a volte veramente con finezza di indagine quanto prima non era stato invece notato o era stato notato poco non è qui in diversi punti di vista non si tratta della mitica interdisciplinarietà spesso evocata e raramente realizzata ma invece di diversità di approcci storiografici con lungo il fil rouge del biografico lungo il fil rouge della vita di Elia e da qui però storia delle istituzioni storia della spiritualità di Elia della scienza della letteratura e oggi abbiamo sentito dell'architettura e poi delle reliquie tanti modi di accostare la figura di Elia e di proiettarla in un panorama ampio di prospettive a me pare che una proposta interpretativa di grande interesse che è interpretativa e di metodo con la quale pure si può affrontare la figura di Elia sia venuta da Jacques Dalaran che nella discussione di ieri facendo però riferimento alla sua stessa relazione all'impostazione della sua relazione ha parlato di storia affettiva di storia storia degli affetti di storia degli affetti che è una prospettiva metodologica non astratta non è un ragionamento adesso inventiamo una nuova un nuovo un nuovo metodo una nuova pro no è qualcosa in questo caso io diffido così però in questo caso mi sembra mi sembra concreta mi sembra concreta e giustificata giustificata perché riferita ad un personaggio e ad una vicenda in cui gli affetti e le emozioni hanno un peso davvero rilevante almeno per quanto noi riusciamo ovviamente a capire attraverso le fonti questo è il nostro limite oggettivo e questo possiamo fare e comunque è una vicenda in cui i legami con Francesco ma non solo con Francesco giocano un ruolo sia a livello personale il che è ovvio ma hanno riflessi anche sul piano istituzionale si pensi alla fraternitas al primo gruppo di compagni di Francesco in una cronaca come quella di Giordano D'Agiano ampiamente citata in questi giorni e particolarmente studiata in questi giorni da Felicia Crocca più che nucleo omogeneo e compatto di soci protagonisti in quanto gruppo degli eventi che segnano le origini del movimento francescano il cammino del nascente ordo fratum minorum essa appare sfocata ma come appare indirettamente nella sua forza di attrazione come un insieme capace di suscitare per l'appunto affetti ricordi rimpianti se non è proprio la primissima fraternitas ma insomma il primo gruppo Giordano accenna alcuni suoi membri come Pietro Cattani colto e nobile che Francesco per sua cortesia rendendogli onori chiamava signore ma comparano occasionalmente è però indicativo del fascino e degli affetti che Francesco con il gruppo ruotante attorno a lui significativo quanto Giordano D'Agiano racconta ed è notissimo di Cesario da Spira è un episodio comunque ricordato in più di una relazione in questo convegno Cesario da Spira che partendo per la Germania malvolentieri lasciava il beato Francesco e gli altri e gli altri santi frati e che ben presto dopo due anni desideroso di rivedere il beato Francesco i frati della valle spoletana essendo ormai l'ordine impostato in Germania che fa prende col sé alcuni frati et questo importa venit ad beatum franciscum vel fratrem Eliam vel venne andò da Francesco o Elia quasi che i due nell'affetto nostalgico di Cesario e nella percezione che ne ha il cronista e nel racconto del cronista che naturalmente forse non dimentica che Elia era stato era entrato nell'ordine per merito di Elia che scusate che Cesario era entrato nell'ordine per merito di Elia però sembra mettere Francesco ed Elia sullo stesso pervel almeno in questo in questo in questo sentimento di certo di nostalgia e di affetto Francesco vel Elia quasi fossero nel ricordo di Giordano nel 1262 una sola persona e comunque sullo stesso piano questa dimensione affettiva della storia come la chiamata Jacques è ben presente mi pare anche nel rapporto forse questo può essere approfondito che unisce è stato già fatto poi dalla Maria Pia insomma indirettamente nel rapporto che unisce Gregorio IX Elia e Chiara nel nome di Francesco è un rapporto ricco di conseguenze che è personale ma è ricco di conseguenze anche sul piano istituzionale come ha mostrato appunto Maria Pia Alberzoni basta pensare alla costruzione di questa difficile identità delle pauperes sorores di Chiara che è spalleggiata da Elia che rispetto alle domine incluse del Papa alle domine incluse e questa forza di Chiara in fondo nasce anche da questo rapporto comunque con Elia i due si sostengono si sostengono a vicenda anche in momenti di difficoltà e d'altra parte questa ci ha detto Maria Pia Alberzoni proprio questo fatto questa implicita contrapposizione tra pauperes domine tra pauperes sorores e domine incluse finisce con essere un elemento probabile di raffreddamento e alla fine anche un elemento non l'unico di raffreddamento dei rapporti con Gregorio Nordic d'altra parte proprio nel legame con Francesco sta la diversità di Elia la causa c'è stato detto anche della sua malavventura come ci ha spiegato Jacques ed è gravida questo rapporto è gravido di ricadute per l'ordine nella misura in cui Elia si sente chiamato a raccogliere l'eredità più autentica di Francesco quella che lui ritiene l'eredità più autentica di Francesco l'immagine di Elia emersa in molti relazioni di questo convegno l'abbiamo detto ieri è sembrata andare in questa direzione Elia custode interprete con Chiara e pochi altri della proposta cristiana di Francesco d'Assisi ma noi non vogliamo creare un nuovo santo non vogliamo creare un nuovo santo e in qualche modo a correttivo di un'immagine a tutto tondo che finisce con essere radicalmente diversa rispetto a quella trasmessa attraverso ad Amnazio Memorie esercitata su Elia c'è chi ha sottolineato che quella la figura di Elia è anche la sua immagine è divisiva la sua figura è divisiva Elia lo ha sottolineato Bartoli Langer mi pare di ricordare è anche segno di divisione divisione innanzitutto che si prospetta nella sua stessa vita come viene raccontata per esempio dai cronisti c'è una prima fase Giordano che tutto sommato lascia fa di Elia il compagno di Francesco e comunque ne esalta l'opera e la considera con grande rispetto una seconda fase 1230-32 1239 in cui in tutto precipita una divisione tra minoritismo umbro e non direi minoritismo padano che insomma riprendo l'espressione mia comunque la mia era internazionale padano ma un minoritismo delle province dice sì un minoritismo è perché quella è una contrapposizione vera perché non si basa solo su questioni personali non è quelle piccole accuse di Tommaso da Eccleston mangiava oro no è una divisione strutturale molto importante sulla quale si deve riflettere e riposizione poi minoritismo rustico minoritismo colto attento alla posizione dei laici invece sostenitore di un ingresso alla grande dei chiedici frati legati alla regola prima o non bullata Bartolo Ilange ha detto chiamiamo la regola prima e alla regola bullata del 23 e questa è stata un'indicazione scaturita in primis dal sottotitolo dato da Felicia Crocca alla relazione il francescanesimo della regola non bullata ma è emersa questa indicazione quella anche in altre proposte interpretative ed è a mio giudizio stimolante anche se ha suscitato ha suscitato delle perplessità degli interrogativi sulla sua sulla sua applicabilità diciamo questa distinzione sulla sua realtà però che non lascerei cadere se non altro ricordando proprio quel frate della Val d'Elsa con il quale anch'io molti anni fa mi sono incontrato lo ricordo un po' vagamente il quale era stato allontanato dall'ordine perché fedele alla regola non bullata perché rimaneva fedele alla regola non bullata e non aveva accettato la bullata probabilmente so che ci sono sotto anche questioni giuridiche però io sarei sempre cauto almeno a queste altezze cronologiche a tirare in ballo il diritto lo so benissimo che si invocava il diritto anche per esempio il diritto di Elia di non convocare per sette anni il capitolo però ci starei un po' attento ci starei un po' attento di questi d'altra parte frati legati alla regola non bullata ho parlato anch'io a proposito della figura di Sant'Antonio ricordando sulla scia di un agguerrito saggio filologico di Paolazzi che sino ad oggi l'unica citazione sicura di uno scritto di Francesco chiamiamolo così nei sermones di Antonio è appunto un passo della regola non bullata relativa ai predicatori Paolazzi credo che l'abbia dimostrato senza possibilità di dubbi cioè Antonio cita Francesco e cita la regola non bullata altri possibili accostamenti qui non è che voglio insistere su una cosa del tutto marginale però altri possibili accostamenti con la figura di Antonio per esempio si potrebbero fare a partire dalla scelta del nome ha sottolineato Jacques Dalaran che la scelta del nome Elia non è che è il nome di religione da parte di Elia non è una scelta qualsiasi ma probabilmente una figura dell'alto del vecchio testamento che richiama che richiama scelte anche di tipo eremitico Antonio si chiamava Fernando entra in religione si fa chiamare Antonio che è Antonio Abate il padre degli eremiti un altro elemento ma capisco che è del tutto superficiale è appunto questo legame con la città Antonio di Padova rimane per sempre Antonio di Padova Elia rimane o Daudi rimane non è di Assisi è di Cortona è di Cortona cioè il luogo dove che li ha accolti che ha accolto entrambi nell'ultima fase della loro vita e dove riposano le loro spoglie e a proposito del legame di Elia e di Francesco con Cortona abbiamo appena ascoltato stamattina la relazione di Paola Refice che illustrando le memorie di Elia a Cortona stessa ha avuto modo di mettere in luce ancora una volta il rapporto con Francesco attraverso le reliquie del santo d'Assisi che qui conservate quelle memorie restano ancora una volta memorie legate indissolubilmente a Francesco e su un altro piano invece Fulvio Cervini con il suo intervento su Elia e l'architettura d'Assisi a Cortona nella quale relazione in maniera secondo me del tutto convincente ha mostrato come quello di Elia architetto sia un mito e che più correttamente si possa a lui attribuire la qualifica di committente colto di mediatore culturale ma comunque ha gettato un fascio di luce appunto su quest'altro aspetto dalla storia al mito al mito di Elia e ha aperto strade alla conclusione delle mie conclusioni Claudia Sebastiana Nobili ha ben evidenziato ieri come la costruzione e invenzione perché è anche un'invenzione del personaggio Elia da parte di Salimbene sia stata se non il primo certo momento fondamentale nella costruzione del mito negativo di Elia il passaggio dalla realtà al mito ha nell'opera del Parmense nel mito di Elia un punto di riferimento ineludibile però a questo proposito credo non sia inutile fare alcune considerazioni finali che in parte rendano possibile almeno ipoteticamente uscire da prospettive feconde ma strettamente francescaniste per così dire una francescanistica degli studi che talvolta non sfugge del tutto al rischio che va in profondità ma a volte non sfugge al rischio di riproporre quasi pari pari dibattiti due trecenteschi su testi su torti e ragioni di Fratellia che non inquadra forse sempre sufficientemente in un contesto storico più ampio che non sia quello della storia puramente francescana la sua figura credo cioè sia utile riflettere anche sul fatto che la damnazio memoria di Fratellia si colloca in un'epoca di facili e ripetute damnaziones memoria di demonizzazioni dell'avversario di processi postumi di inchieste e condanne tra politica e ideologia basti ricordare non sembri qui una profanazione il caso di Ezzelino da Romano il tiranno per eccellenza ora al di là dell'ovvia diversità di situazioni e contenuti vale la pena di ricordare che l'epoca è esattamente la stessa che gli accusatori e i diffamatori della memoria del frate Elia sono esattamente gli stessi del Dominus e Zelino papi frati minori salim bene in primis Tommaso da Equest che la vicinanza Federico II è un dato che accomuna gli accusati e che perfino la data il 1239 deposizione poi scomunica di Elia è la stessa medesima della scomunica di Federico II allora residente a Padova con Ezzelino ed è l'inizio di uno scontro senza ritorno e senza quartiere anche personale tra Gregorio IX ed Imperatore poi vengono gli altri papi e allora anche direi che varrebbe la pena di notare che l'accusa di tirannide di dispotismo ovviamente diversa per gravità per contenuti non c'è dubbio Elia per fortuna non ha ammazzato nessuno ma che comunque viene rivolta a entrambi la tirannide a entrambi i personaggi nasce in una cultura dell'età comunale che esalta le autonomie contro ogni centralismo che in qualche modo penso questo è conosciuto da me attorno alla contestazione al tiranno dell'antitirannide fa la base della propria ideologia politica allora come dire contestualizzare Elia anche in questa il tiranno insomma l'immagine del tiranno in questo modo io credo possa essere secondo una spia per lo meno per introdurre questo processo di demonizzazione in un più ampio processo che coinvolge altri e diversi personaggi e spero che su questo magari si possa anche per lo meno stimolare qualche discussione che lo proietti che proietti Elia come quello che è è una grande figura del tredicesimo secolo una grande figura non soltanto in ambito francescano ma una figura che travalica secondo me anche questo ampito diventa è un protagonista della storia del tredicesimo secolo anche politico ovviamente anche politico ed è un esempio della grandezza ma anche delle forti contraddizioni di quell'epoca grazie grazie